Buongiorno da Luciano, dall'Agenzia Casa Oggi, questa mattina con Cristian siamo a Silvi Marina Residency Cubi per vedere un appartamento duplex trilocale in perfetto stato. Vi ricordo che siamo in un residence immerso nel verde con la piscina a 100 metri dal mare. Ma andiamo a vedere l'appartamento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.